Dobbiamo riprenderci la nostra sovranità nazionale all'interno dell'Europa, dobbiamo riprenderci le chiavi di casa, solo così potremo uscire dalla crisi economica che ci affligge. È un messaggio chiaro quello lanciato dal leader del Movimento per la Sovranità Nazionale, Gianni Alemanno, presente a Corato, ospite del consigliere comunale e militante del suo movimento, Cataldo Mazzilli. L'incontro coratino è stato per l'ex sindaco di Roma l'occasione, oltre che per illustrare le linee guide del suo movimento, per fare il punto della situazione a livello nazionale e, rimarcando le differenze con Fratelli d'Italia, cui Alemanno rimprovera un'impronta poco sovranista e molto retoricamente patriotistica, per manifestare il proprio apprezzamento per l'atteggiamento della Liga e del suo leader Matteo Salvini. Noi abbiamo il Movimento Nazionale per la Sovranità, che è un partito, un movimento che eredita una buona parte delle persone che facevano parte di Alleanza Nazionale della Destra e che non sono i Fratelli d'Italia. Questo movimento dialoga con la Lega, riconosce a Matteo Salvini la capacità di essere il punto di riferimento di valori più che di destra sovranisti, di sovranità nazionale e quindi riconosciamo la sua leadership, manteniamo la nostra identità e la nostra autonomia. Chiara è stata anche la posizione di Alemanno riguardo alla possibile nascita di un partito unico della destra, con la Lega, come punto di riferimento. Se la Lega fa un grande partito ampio in cui c'è spazio per tutti, in cui c'è democrazia, c'è radicamento del territorio, può essere una cosa interessante. Se invece la Lega preferisce mantenere la propria struttura, noi conteremo con la nostra strada e con la nostra alleanza, che ha già dato dei risultati, perché noi avevamo candidati a elezioni politiche, siamo presenti in molte elezioni comunali con la Lega, ma anche in altre realtà, come Brindisi, abbiamo la nostra lista. Quindi noi siamo in piedi, andiamo avanti e stiamo trovando un grande riscontro in tutta Italia, dal nord come al sud e soprattutto il sud è il nostro punto di riferimento del bilanciare la Lega. Qua a Corato, con Mazzilli, siamo presenti in consiglio comunale, questo per noi è molto importante, ma è una realtà molto diffusa in tutto il territorio.